E' contento di questo 1-1 a Bolzan? Diciamo sì, perché il Chieti lo ha reso giusto il pareggio negli ultimi 20 minuti di partita perché con tutte queste traversone da tutte le parti la mettevano dentro sicuramente ci hanno fatto abbassare tanto noi non avevamo tanta energia negli ultimi 20 minuti di partita ma credo che fino a lì la Fermana ha fatto tutto quello che doveva fare per portarsi in vantaggio ha dominato credo in modo importante la partita Ecco a proposito della partita c'è stato un momento che è durato abbastanza almeno 10 minuti dopo il vostro pareggio avete colpito una traversa e stavate cercando la via per il secondo gol Ma secondo me se io faccio mente locale ora la partita la devo rivedere però nei primi minuti di partita abbiamo fatto una grandissima azione e Bianchimano penso che è andato tu per tu col portiere non si è arrivato per questione di centimetri quindi saremo passati in vantaggio sin da subito quindi questo vuol dire che la squadra ha interpretato bene la gara Ecco può pesare quanto pesa se pesa questo fatto che in casa non siete ancora riusciti a sbloccarvi? No non pesa ci vuole equilibrio ci vuole equilibrio un campionato tosto noi siamo partiti in netto ritardo ci siamo dovuti arrangiare anche fisicamente ci stiamo conoscendo sono passati diverse partite secondo me la squadra è in crescita poi io credo che questo campionato sia molto molto equilibrato i risultati a me non mi sorprendono ogni domenica chiunque può vincere contro chiunque domenica prossima domenica prossima è dura è dura perché affrontiamo un altro avversario costruito per fare un campionato di vertice quindi ma più o meno le partite sono quasi tutte impegnative sempre più avvincente questo girone si è troppo bello anche equilibrato anche equilibrato sì sì